Se noi continuiamo a passarsi la palla, così miglioriamo il concetto proprio di desiderio di passarsi la palla, diventiamo efficaci. I told it, I told it. ATX, you know what I'm saying? Isle shit, mob shit, you know what I'm saying? Mob, OBO shit, you know what I mean? Numero 3, Dynamo! C'è aria di grande festa, fa la serra di mini per la vittoria nel Supercoppa a Bari e per le 600 presenze di Jack De Vecchi con la maglia bianco-blu. Però c'è anche il campionato, dopo la vittoria di Varese la Dynamo cerca altri due punti in casa contro Pesaro. Dynamo-Pesaro per continuare a stare in beta. Dynamo-Pesaro per superlore della stampa di Samsung. Dynamo-Pesaro per completamente il plyo per molto più frequente. Sì! In questo momento sono straordinari, fino a questo momento sono stati straordinari. Abbiamo avuto un periodo che è necessario di ambientamento, stanno capendo da dove sono. Mi immagino di giocare con giocatori così che veramente hanno anche la capacità di trasmettere la loro esperienza e aiutarci ogni giorno a partire dall'allenamento. Grazie. 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 Grazie.